Su Montessano non ho niente da dire, siamo amici e di dietro sono sentiti a telefono, non c'è nessun problema dal punto di vista personale, dal punto di vista politico la fiducia e sfiducia si fa nei luoghi opportuni, la sfiducia si fa in Consiglio Comunale, l'eventuale sfiducia che non ci sarà si dovrebbe fare in Consiglio Comunale. Grazie.